Negli episodi precedenti di Resident Evil, Revelations. Ferma dove sei. Cerca di attivare il programma di autodistruzione della nave. Per distruggere le prove. Sequenza di autodistruzione avviata. Sembra che il mio brillante giovane assistente abbia fatto l'ultima mossa. Bene. Ti ho finalmente chiarito la situazione. Jessica! Mi dispiace, Parker. Ci vediamo, amici. Parker. Qui è, Trick. Mi sentite? L'estrazione non è possibile ora. Eseguo manovre d'attesa. Passo e chiudo. Che cosa hanno creato? Possiamo farcela, Chris. Ripeto, è impossibile avvicinarmi. Potete eliminare quella cosa. Vira i parassiti, non mi bersagno. Vuoi farmi credere che quel culone è controllato da un parassita? Maldizione. Vi ho buttato giù delle munizioni. Vi ho buttato giù delle munizioni. Vira i parassiti. No! Spara, Jill! Spara, Jill! Mi ha buttato giù delle munizioni! Scara! 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 Scara, Sara! Scara! Scara! E' finita? Siete stati incredibili! Vi butto giù una scala! Salite! Siete stati! Siete stati! Siete stati! Siete stati! Siete stati 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 stat Sei pronto, Chris? Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. L'abbiamo ucciso. Ehi, ragazzi, non regalo per voi, prendete questo! Sai come trattare le ragazze, Kirk? Mira alla bocca! E la storia della Zenobia finisce qui. Sono io. Che succede? Ce ne andiamo. Abbiamo perso Parker. Jessica ha distrutto l'intera nave. e la FBC, la FBC, la FBC. Ma è sempre stato un passo davanti a noi. Sì, capisco. Non lo sopporto, ma potrebbe essere uno sbaglio. Un mio sbaglio. Parli chiaro con noi, O'Brien. E non trascuri niente. D'accordo. Tutto è cominciato un anno fa. Proprio lì, a Terra Grigia. Siamo all'inferno? Sì. Lo chiamano Terra Grigia. Questo posto non reggerà ancora molto. Giusto. Dobbiamo andare nella sala di comando. Ci sono degli after anche qui! Presto! Sarà la fine del QG! Lensdale aveva ragione. Già. Il capo premia per ampliare le competenze dell'FBC. Avvisava il mondo di un'eventualità di questo tipo. E questo incidente porterà la crisi sotto i riflettori. Potrebbe essere una buona pubblicità? Già. Forse la comunità internazionale capirà il messaggio. La FBC deve crescere ancora molto. D'accordo. Dannazione. Dannate cose. Dannazione. Dannazione. Forse erano gli ultimi Non è niente, passerà Sei ferito gravemente, non fare il duro Ok, qualcuno gli presti una spalla Parker? Il quartier generale ti ha ordinato di andarti Ma io posso ancora combattere Non mi convince, avanti, appoggiati Non possiamo ancora andarcene, ci sono civili là fuori Dobbiamo fare qualcosa Siamo in inferiorità numerica, dobbiamo riorganizzarci Come hanno fatto tutto questo con poche decine di uomini? Chili armati? E armi biologiche? Questi terroristi devono essere assicurati alla giustizia Donazione! Anzi, ancora altri. Ma tutto bene, posso farti guadagnare l'eroe. Andate avanti senza di me. Sei troppo giovane per fare l'eroe. Dimostra quel che vali prima di farti ammazzare. Non va bene. Stai perdendo sempre. Spostarlo sarebbe troppo pericoloso. Ha bisogno di cure immediate. Qui dovremmo essere al sicuro. L'unità medica è al quarto piano. Forse c'è qualcosa per fasciarlo. Tu resta qui, cadetta. Torneremo a prenderti. Andrà tutto bene. Ok, partiamo. Andiamo. Ok, partiamo. Ok, partiamo. Ok, partiamo. So che è una storia vecchia, partia. Ma... non sei troppo duro con la replica. Parli di Raymond? Solo il pugno di ferro fa crescere quelli come lui. Ok, come dici tu. Voi uomini, i vostri giochetti. Andiamo. La situazione è grave. Devaderanno presto alla sala di comando. L'unità medica dovrebbe essere qua sotto. Andiamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questo dovrebbe andare per ora. Merda, altri ante. Se mi sentite, tornate subito qui! Raimond è nei guanti. Devo tornare in piedi. Sapevo che quel pivello era una palla al piede. Non prendertela con lui. Non è colpa di più. Non prendertela con lui. 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 Maledizione, sono circondato. Non so se... Ascoltami bene, cadetero. Tu non morirai. Ti ordino di restare vivo. Stiamo arrivando. Stoicato. Non prendertela con lui. Ma non prendertela con lui. Trompare? Sì. Non prendertela con lui. Ehi, ti sei difesa bene? Ci passiamo noi a pubarci. Tutto a posto, sano e santo. Ora possiamo occuparci del nostro piccolo cadetto. La ferita è grave? Bene, cadetto. Ora sei in debito con me. Capisca. Vuoi fare il primo della classe? Ma niente eroismi. Lo farai uccidere la tua unità. Già. Benvenuto nel mondo reale. Sì, signore. Ok. Questo ritornerà il dolore. Dovrei riuscire a camminare. Allora seguici. L'ascensore che porta alla sala controllo è lì. Puoi muoverti, cadetto. Abre tu un'altra volta che svegli i vapori. Oh, please. No. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo qui per risolvere il problema. Ma quello che ho detto ha senso. Grazie a tutti. La sala di comando è vicina. Tu cerca solo di mantenere in vita il nostro cadetto. So che sei ferito, ma tieni il passo. Grazie a tutti. 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 Quelli erano gli ultimi altri. Lo spero proprio. Andiamo nella sala di comando. Sì, capisco bene e sento perfettamente. Sono notizie. Grazie a tutti. No, Norman. Morgan, tu volevi che il virus si diffondesse sulla nostra nave. ma siamo stati fregati. Ma siamo stati fregati per bene. gli americani, ma gli americani mi hanno sempre disgustato. Grazie a tutti. sono stati stato un ostacolo. Quindi abbiamo conservato i video di tutti i nostri scambi. fossero esseri pubblici, la tua vita sarebbe finita. fate pure come credete. L'uso del satellite è stato approvato. Questo nuovo virus sarà completamente debellato. brutto bastardo. Brutto bastardo. Noi... Avaccio, sarai dove di ciò ti farà l'occhio la risposta. VEGGENDO LA CAGION CHE IL FIATO PIOVE 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 Come hai potuto? Jessica è fuggita. Eravamo così vicini. Ehi. Mi dispiace, Raymond. Avevi ragione. Finta all'inizio. Grazie al cielo qualcuno aveva capito. Non essere così duro con te stesso. La prossima volta ti salvo. E usciamo in grande stile. Questa è per l'orecadetto. Questa è per l'orecadetto. Raymond ha capito che Morgan non era quello che sembrava. E abbiamo predisposto questa trappola. Tutta la storia del ritorno della Veltro. Nascondigli in montagna. Movimenti coordinati delle navi. Tutto per pressare Morgan. Ma signore, non poteva almeno dircelo. Non potevo rischiare. Non con una talpa nella BSA. Vi prego di scusarmi. Tutto quel lavoro. E la Zenobia. E la Semiramis. Sì, lo so. Ma non mi sono ancora arreso. Kate e Quinte ci hanno lasciato con un asso nella manica. L'analisi dei loro dati. Abbiamo i risultati. Allora, di che si tratta? Pensavamo che la Veltro avesse usato due navi gemelle durante il panico di terra grigia. Ma ce n'era una terza. L'ultima regina. La Semiramis. Grazie a tutti.